Professore, noi dentro siamo pronti. Sono arrivati tutti? Veramente ci manca sapere, lui oggi è di turno. Farà una mezz'oretta più tardi. Uè, giovinone, spazzino. Voi la mattina dovete venire alle sette, perché i signori di questo palazzo sono una massa di fepienti. Buttano tutte le schifezze da sopra a basso. La monnezza va in fermentazione e noi morimmo rapuzzo. E adesso, piano piano, fate piano e non arronzate. Quella scorza là. Là, 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 la vedete? Là. Quella scorza di melone. Eh, là. Bra, bra. E adesso, un po' più avanti. Eh, più avanti ci stanno quelle carte insevate. Eh, che le robe della signora del terzo piano. Dice che è nobile, è contesta, è che non può cucinare perché lì si rovinano le mani. E poi si accatta panzarotte e pallerise. E meno tutte le carte fatendo a basso. Ma è la chiave che è con questo. Ma io non capisco. Ma ci vuole tanto a mettere la monnezza nei sacchetti. Oh, non è questo. È che la gente nasce sporca di costituzione. Se nasce, fa niente. Fiorino, e che state facendo? Eh, voi andate troppo in fretta. Qua bisogna spazzare piano piano, metro per metro. E che fate? Ve ne andate? E qua sta tutta a mullezzo dentro. No, no, non vi preoccupate, signor. Torno fra mezz'ora a passare alla cera. No, no, non vi preoccupate.